Ciao a tutti e bentornati ancora una volta su Indie Gameplay It, oggi un altro tutorial su Archage. Oggi andiamo a vedere un attimino quello che è l'archpass e le valute varie di gioco, almeno quelle che conosco, perché dovete sapere che comunque vi imbatterete anche in gente, gilde, insomma che giocano in mid-late game, quindi fasi molto avanzate, ma alcune cose non le sanno ancora. Io so ancora molto poco del gioco, nonostante le mie 230 ore, mi sta prendendo, anche se sto cercando un pochino di limitarmi, perché le cose da fare sono tante e ovviamente non dovete farvi prendere dalla frenesi di dover far tutto, anche se il gioco vi invoglia a farlo, perché sennò non vivete più, insomma. Premesso, lo trovo sempre molto molto divertente. Allora, una volta giunti a livello 30, io adesso sto usando il mio personaggio principale che è 5, ancestrale, piuttosto bassino. Una volta che arrivate al 55, ve l'avevo già detto, vi parte il livello ancestrale, quindi dal 55 fate l'1, il 2, il 3 e arrivate ancora a 55 livelli di fascia più avanzata. L'archpass si attiva da qua premendo il tasto N o premendo questo tasto qui. In che cosa consiste? L'archpass è una sorta di pass fatto a missioni, obiettivi, che all'inizio per sbloccarli vi chiede, li troverete tutti di questo colore qua. Per sbloccare il primo dovete spendere 5 gil da star, quindi dovete averli nello zaino. Il secondo, invece, dovete andare da un general merchant qualsiasi e acquistare due di questi martelli qua, che costano un gold l'uno. Una volta fatto quello, scusate che sbaglio il tasto, non è N, scusate adesso non mi ricordo che tasto è, comunque è questo, i due martelletti qua e il gil da star qua. Allora, in questo caso voi vi troverete di fronte, vabbè, a 3 dovete andare a vedere tutte le stagioni, ne potete far solo alcuni. Ad esempio, questo è scaduto il 2 luglio, questi 3 sono scaduti il 2 luglio, sono partiti questi altri 3, ne potete scegliere uno e lo sbloccate, vi registrate e lo fate. Potete andare a vedere che cosa vi dà nel corso del completamento delle missioni fino a quello finale. Io in questo caso qua mi dà una sorta di, non so cosa sia, è un tipo un cosa per volare, insomma un glider. Questo mi dà un pet da, non so se combattimento, ma non, sì, livella anche lui. E invece l'arche pass del combat, in questo caso mi dà una mount. Ho detto, la prendiamo, che almeno è una cosa in più. Vedete che poi c'è un premium rewards. Praticamente questa è una cosa puramente estetica, nel senso che se voi vi abbonate e pagate il premium, vi costa 10 euro, potete accedere, man mano salite di livello, a, oltre ai vostri premi che vi prendete, anche a dei premi in più, che non vi danno nulla di più, insomma. Qua mi dà 50 pietre per il teletrasporto, sono comode, qui mi dà un ticket per colorare, qua mi dà un altro ticket per colorare, pietre, qua mi dà un forziere che può tenere all'interno un'arma di un certo tipo, qua mi dà un certificato per cambiare la, diciamo, l'apparenza, andare un po' sotto a di barbiere e parrucchiere, qua mi dà una personalizzazione del glider per volare e alla fine mi dà un costume, che è Summer Nights Swimwear, praticamente potete farvi un costume personalizzato, insomma niente di più. Io sono a livello 6 e da sapere che ogni settimana potete fare 12 quest, io ne ho già fatte 5, ad esempio guadagnare 500 honor points, io ora, dato che è un po' che ci gioco e ho un pochino imparato alcuni trucchetti, ho imparato a tenermi via le pozioni di onore, adesso io non so dove sia, dove l'abbia messa, però dovrei avere da qualche parte una pozione che mi dà honor, adesso vi faccio vedere come funziona, questa mi dà 10.000 honor, magari un po' meno, me ne chiedono solo 1.000 e vediamo, questa mi dà 3.000 honor, così vi faccio vedere. l'obiettivo è quello di fare 500 honor, in realtà all'inizio voi avete delle quest in ogni regione nuova che esplorate, tipo uccidere 50 mostri e vi dà 200 honor point, poi 100, poi 200, uccidete i mostri e man mano vi danno l'honor. vabbè, io mi bevo questa pozione che mi è da 3.000 e vedete che ho completato la quest e sono salito dal livello 6 al livello 8, quindi in pratica mi posso accedere a questo premium che sono 70 badge, questa è un'altra valuta che devo capire bene a cosa serve, serve in fasi un po' più avanzate di gioco e mi sono preso anche questa, questo forzierino qui, che sono delle cose in più, cioè sono delle pozzoncine, è un forziere con dentro 60 pozioni per potenziare l'equipaggiamento, vedremo anche quello in futuro. Ora, l'altra quest che ho, mi ne si è sbloccata un'altra, vedete che sono intanto a 6 su 12, uccidi 50 mostri, questa la faccio relativamente veloce perché sono in una zona di mostri livello 30, io sono oltre il 55, quindi un colpo li uccido e devo uccidere nel 50, quindi in questa regione qui, adesso mi recherò qua e li ucciderò. Qua, un'altra missione mi dice spendi 500 labor, qua ovviamente i labor vi servono per fare un sacco di cose, in primis potenziale l'equipaggiamento, secondo laborare, però in questo caso io ho in un precedente premio vinto queste casse qui, queste casse qui sono praticamente beledang, l'archepass e all'interno potete trovare randomicamente da 20 a 1000 gold e per aprire ognuna di essa vi chiede 200 labor, quindi io lo faccio, vediamo intanto quanto prendiamo, 20 gold, ci è andata male, ne apriamo un'altra, ne abbiamo presi 23, quindi 43 gold alla fine, però abbiamo fatto 400 labor, come vedete qua su 500. Come faccio a ottenere un'altra i 100? Io adesso sto facendo un metodo veloce per farvi vedere, in realtà dovreste fare le vostre cose normalmente, tanto avete una settimana per farne 12, se non ne fate 12 è un po' sprecato perché perdete tempo, in pratica dovete farne al massimo quello che vi consente il gioco. Ho queste palle qui, che sono di un obiettivo e praticamente ne prendo una, mi servono 100 labor point per aprirla, la apro. Ok, e ho completato anche questo. Ok, un'altra missione che è partita adesso è, vabbè, prima di tutto ho vinto questo a livello 9, quello è un, diciamo, un forzierino che può darmi delle pozioni, in questo caso devo fare mille vocation badges, io saprei già come farlo avendo una casa che mi genera vocation badges, però lo faccio, ve lo faccio vedere direttamente da qua. Questi forzieri qui potete, cliccandoci col destro, decidere se generare una pozione che vi dà honor point, 1500, o vocation badges. Io scelgo i vocation badges in modo che ho già la pozione che mi serve per fare questi mille, quindi lo faccio, completo la quest, salgo di un altro livello e vado a 8 missioni su 12. Quindi vedete che sto andando avanti abbastanza rapidamente. Allora, in questo caso io ho preso il premio che erano i diligence coin. Ora vi faccio vedere, vi spiego, vabbè, avessi avuto il premio ma avrei vinto anche questo per colorare. Ora vi spiego rapidamente, qua vabbè, devo spendere altri mille labor ma non intendo spenderli oggi perché già salgono lentamente, quindi con calma. L'importante è che da lunedì a domenica sera io faccio altre 4 quest, in modo che io arrivo magari, non so, dopo 12 quest, arrivo a livello 14. La settimana prossima me ne faccio altre 12 e in modo tale da arrivare nel giro di un mesetto a prendermi la mount. A quel punto, perché è importante, perché questi 3, diciamo, vocation badges, questi 3 arch pass, scusate, questi 3, vanno finiti entro ottobre, l'8 ottobre. Quindi, se ci state dietro, riuscite bene o male a prenderli tutti. Se calcolate comunque che ogni arce passa al livello 2 vi da 50 gil da star, comunque sono già 150 gil da star in pochissimo tempo. Ecco, una piccola notazione che ho dimenticato. Se vi capita una missione che non sapete di non poter fare, uccidere altri giocatori, ad esempio il PvP, potete per 6 volte al giorno cliccare change mission, scegliete quella che non vi piace e la cambiate. A quel punto ne scoprite un'altra. Vedete anche qui chi uccide i mostri mitici. No. Se vi va male e consumate tutti i tentativi, in questo caso ancora di nuovo quello, potrebbe andarmi tranquillamente male. Dovete attendere... No, 1000 euro point, quindi mi è andata anche abbastanza bene. Nel caso in cui doveste avere sfortuna, il giorno dopo, quindi dal... mi parla il 2 di notte del giorno dopo, si resetta tutto e avete altri 6 tentativi. Mentre invece la domenica sera, la domenica tra la notte e la domenica il lunedì, come vi dicevo, vi si rinnovano queste, quindi sono a 9 su 12, torneranno a 0 su 12 il lunedì. Ora vi spiego altre due cose. Che cosa sono i diligence e che cosa sono i vocation badges? Allora, ve l'avevo già detto, però mi ripeto. I vocation badges sono questi e in ogni zona dove voi comprate i semi, trovate e diciamo gli animali per la coltivazione, insomma qua, vedete questo vende semi, a fianco, vabbè, da qualche parte di solito c'è quello che vende, eccolo lì, il livestock che vende gli animali e il cibo per gli animali, trovate anche il vocation badges e in realtà poi, anche premendo C e andando qua sul carrello, vi potete comprare delle cose, delle cose che sono in primis, vabbè, il pigiama, 4 pezzi di pigiama, ve lo potete mettere, se avete una casa e un letto, quello è un pre-requisito, vi recuperate una volta al giorno circa 300 labor points in 8 minuti, dovete stare fermi 8 minuti e ne recuperate 300. Altra cosa importante, potete prendervi, vabbè, dei pezzi di vestiti che vi danno, vi aumentano mentre le indossate le varie proficiencies, per poter craftare più, in modo più efficiente, ma soprattutto trovate tutte quelle colture, zucche, aloe, alberi un po' più rari, animali, vi comprate tutto con questa valuta qui, sono le cose un po' più costose, poi le cose che comprate potete decidere poi di coltivarle, venderle, insomma fate quello che volete, però è una valuta di coltivoli. I diligence invece li utilizzate qua, nel marketplace, premendo N, questa volta N è giusto, vi potete comprare, vabbè, qua comprate in Gilda Star, quindi tutto quello che trovate in Gilda Star, tutti i progetti li trovate qua, quindi trovate cosa volete comprare con i Gilda Star. I diligence li usate qua, potete comprare 30 diligence, l'espansione scroll che abbiamo già visto la volta scorsa, in cui potete espandere fino al massimo di 150, un inventario, della banca o personale, potete prendere altre cose, come ad esempio un, non so, vari progetti, la licenza di pesca, sono tutte cose che spesso le trovate in vendita anche a soldi, a soldi di gioco, insomma gold, però volete i vocation, le pozzoncine per aumentare l'esperienza, il carburante per muovere più velocemente il carretto, altre cose, trovate tutto qua. Addirittura trovate anche una sorta di mini inventario personale da mettere in casa che vi dà ulteriori 100 slot dove mettere le cose. E qua sono solo i consumabili, perché trovate anche i trasporti, mount, anche case, glider, trovate equipaggiamento, le case le potete prendere, oltre che con gildastare alcune le comprate anche con i diligence, quindi se avete i diligence li potete spendere. E poi vabbè, ci sono i credits, che è un'altra valuta ancora, comprando il gioco ne avete 500, questi sono le uniche cose che voi potete acquistare solo a soldi veri, però sono cose cosmetiche, tipo l'arce passa, qua costa 10 euro comprare questi, quindi per quello vi acquistate. I pet, alcuni pet sono cosmetici, sono molto belli da vedere, volete fare i fighi col gatto pirata, spendete soldi, ma sono cose che fate voi di vostra volontà, ma non vi servono nulla nel gioco, siete fighi, poi basta. Come anche cos'è un roller coaster, fare delle mini montagne russe, ci servono una mazza, però insomma è una cosa che avete in più. Gli honor point invece, l'ultima cosa, vi servono in fasi medio avanzate di gioco, che al momento io non sono la persona più indicata a spiegarvelo, in sintesi potete potenziando andare in fasi avanzate di gioco, tipo già io lo posso fare ora, potenziando, cercando di potenziare l'equipaggiamento, se qualcosa nel crafting va male mi si può cristallizzare l'equipaggiamento, quindi un pezzo di equipaggiamento, quindi non lo posso più potenziare fino a quando non lo decristallizzo. Pam, 10.000 honor da spendere per sbloccarlo, così come altre pietre da mettere all'interno di vestiti per potenziarle, quindi tutta una cosa dovuta appunto al potenziamento del personaggio, una cosa più legata al combat. Li ottenete facendo delle quest, facendo dungeon, facendo varie cose di livello medio avanzato, quindi insomma anche quelli sono molto importanti. Quindi, questa è la spiegazione di che cos'è l'Arcepass, adesso ora io andrò, cercherò di finirlo in modo che mi devo pensare fino a lunedì prossimo, mi ottengo anche un po' di cose, vi danno anche tipo i martelletti che vi danno 1000 labor l'uno, quindi praticamente sono comodi, se io devo spendere 1000 labor, ne ho diversi, ne ho una decina da parte, clicco col destro, ottengo 1000 labor subito da usare, infatti qua vedete che io in realtà ne avrei 1492 più 1475 dai martelletti che ho usato in precedenza per non voler aspettare, ma in realtà sarebbe meglio aspettare, infatti usando i martelletti arrivate a, se siete già a 5000, arrivate al massimo di 8000, quindi a posto. Bene ragazzi, questo era un altro tutorial, l'ennesimo tutorial sulle valute sull'Arcepass, fatemi sapere anche in questo caso cosa ne pensate e noi ci sentiamo al prossimo video tutorial. Alla prossima e ciao ciao! Ciao!